Un avvocato assume la difesa di una donna accusata di aver ucciso l'anziano marito Mi difenderete voi? E con successo voglio sperare Ma finisce per subirne il fascino I miei sentimenti nei vostri riguardi? Perdonate ma devo dirvi che non li considero molto importanti Ritorsioni e rivelazioni sotto lo sguardo astuto del giudice Non avete mantenuto la vostra parola? Cosa volete dire? Io ero contraria a quello che avete fatto oggi Un film sospeso tra verità e menzogna Volete accusarmi di aver ucciso il colonnello? Ma non è vero vi dico Per il ciclo Alfred Hitchcock presenta Il caso Parani Questa sera alle 21.20